Archiviato il campionato si torna a pensare alla Champions League, quindi alla sfida di mercoledì sera contro lo Schalke. In mattinata, di buon'ora, la squadra è tornata in campo per la prima seduta in vista della partita in Europa. Ovviamente, come ogni giorno dopo la partita, il Amister ha suddiviso la squadra in più gruppi secondo le esigenze individuali, quindi programma di recupero, quindi seduta di defaticamento per chi è sceso in campo ieri. Per altri, invece, per i giocatori non utilizzati, una seduta di allenamento completa con un po' di riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche e poi invece ci sono i giocatori che anche quest'oggi hanno proseguito i programmi personalizzati secondo le esigenze individuali. Tra l'altro, una mattinata ancora calda qui ad Appiano Gentile, anche se bisogna sottolineare un po' di venticello fresco che ogni tanto allietava la seduta di allenamento. E nonostante il clima caldo, ci sono due giocatori alle prese con un po' di influenza. Il primo è Hus Karja, che questa mattina ha ricevuto la visita dello staff medico e che quindi è rimasto a casa e non è venuto qui ad Appiano Gentile. Mentre invece era presente Wesley Snyder, anche lui un po' influenzato, tra l'altro abbiamo visto anche il capitano con un po' di raffreddore già nella giornata di ieri. Hanno proseguito invece le sedute individuali, da una parte Walter Samuel e dall'altra David Suaso. Per il resto, insomma, domani si tornerà in campo in mattinata per la seconda seduta di allenamento in vista dello Schalke. Per tutte le altre notizie, ovviamente, consultate come sempre il canale 232 di Sky Inter Channel.